ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale io sono andrea e come sempre questo è curiosando lanzarote oggi ragazzi vi porto in un posto veramente bello visto che la settimana scorsa nella diretta era uno dei tre posti da poter selezionare ma purtroppo ahimè non ha vinto ho deciso che vi ci porto lo stesso quindi adesso mi metto in cammino faremo tutto un tour passando per iaiza dopodiché vi porterò a vedere lo servideros e come ultima tappa il lago verde al golfo mi raccomando ragazzi come sempre se ancora non l'avete fatto cliccate sull'icona iscriviti che trovate qui sotto e se non volete perdere nessuno dei nostri video attivate la campanella bene adesso mi metto in marcia e andiamo direzione lago verde vai ciao a tutti 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 vedete ragazzi io vi volevo portare qui ma vi ci ho portato ugualmente ho fatto un po il giro dell'orecchio ma sono riuscito ad arrivarci siamo nel bellissimo panorama naturale dello servideros ciao a tutti 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 e adesso dopo aver visto questa figata di posto proseguiamo verso il lago verde ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti bene ragazzi eccoci sono arrivato finalmente qui al golfo e adesso scendo dalla macchina e andremo a insieme a vedere questo spettacolo della natura che è il lago verde ciao a tutti 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 Grazie a tutti. Bene ragazzi, eccoci arrivati finalmente alla nostra meta. Siamo qui alle nostre spalle con il bellissimo lago verde, la giornata è splendida, c'è un po' di vento ma è normale al golfo. Bene, detto questo ragazzi non mi resta che salutarvi, darvi un abbraccio grande e come sempre, anzi no, oggi no, oggi l'appuntamento è per stasera alle ore 19.30. Per il Regno Unito, per tutti gli altri che ci seguono alle 8.30 per la nostra diretta. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto, come sempre lasciateci qui sotto un like, io vi do un abbraccio forte, mi raccomando state riguardati e ci vediamo stasera. Ciao ciao!